Ragazzi quanto cazzo è bella sta moto Cosa ti dice? Potrei scaricarlo, ma questo che è dentro male? Figue de merda Buongiorno amici e amiche biker Benvenuti sul mio canale, io sono Hollywood Oggi ci stiamo andando a fare un giretto molto molto breve Perché volevo spiegarvi un attimo cosa era successo nell'ultimo video Visto che si è stoppato in maniera così brutale diciamo Quest'ultimo mesetto ho acquistato tutto il materiale per registrare, per fare motovlog Ho provato ogni singola cosa che mi arrivava La GoPro funzionava La Power Bank caricava il cellulare, funzionava L'adattatore GoPro funzionava Ho provato il microfono e funzionava L'ultima cosa che ho ordinato è stata cavo telato USB-C Che mi collega la Power Bank all'adattatore e quindi carica la GoPro Ebbene il cavo non l'ho provato Perché ho detto un cavo USB come può non andare un cavo USB E invece faccio il giro e dato i colli come avete visto nel video precedente Sento la GoPro che fa Bip 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 e si spegne Cazzo mi fermo All'inizio ho dato la colpa alla Power Bank Poi andando a casa ho provato con il cavo originale GoPro che è corto 10 cm Potevano farlo un po' più lungo Caricava, funzionava tutto Allora ho dovuto fare il resto del cavo USB Non vi muovete Pensate voi la fortuna Comunque adesso sono stato coglione io a non provare Però vabbè cazzo Un cavo USB Tu dici dovrebbe funzionare un cavo USB Invece no E niente quindi sono rimasto a piedi con le riprese Poi un'altra cosa che ho fatto è stato modificare in parte la posizione e la registrazione dell'audio E scopriremo solo in questo video se è migliorata Un'altra cosa molto importante che non ho detto nel video precedente E' che molto spesso ci sarà anche la voce della mia zavorrina Stiamo studiando un metodo per registrare anche la sua voce Quindi per farla interagire nei miei video Quindi sentirete anche lei molto presto e riposo Prendi Preparate Let me see you jump Preparate Get ready Riga Ahi balla Morabuno Let me see you jump se volete seguirmi anche su instagram vi metto il mio canale qui sopra seguo abbastanza instagram se volete seguirmi anche su facebook metto sempre qui sopra la mia pagina facebook se mi fa molto piacere se scrivete nei commenti se mi scrivete su facebook se mi scrivete su instagram io ognuno di questi canali lo seguo e quindi leggere i vostri commenti se avete anche un cazzo di consiglio per non far appannare la visiera così tanto mentre parlo puttana eva spero di avere un po' chiuso la storia mi dispiaceva averlo interrotto un po' così quella cavalla lì non è la stessa più non è la stessa più non è la stessa più per oggi direi che è proprio tutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale mettete la campanellina delle notifiche se volete avere sempre le notifiche dei miei nuovi video che caricherò mettete un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao iscrivetevi al canale